L'assessore al turismo e all'UNESCO, Loretta Bologna, insieme alla consigliera comunale di Asti, Francesca Varca, hanno presenziato una bellissima manifestazione che si è svolta nel castello di San Martino Alfieri, riguardo a Sbarbatelle, un mondo vitivinicolo che si sta prospettando alla ribalta anche nazionale. Una esperienza interessante, che adesso ancora le diamo a grandi potenzialità del nostro territorio. Prendiamo delle sinergie con altri nostri. Ho iniziato il percorso anche di collaborazione con Alba e stiamo comunque, e ovviamente anche con Torino e soprattutto con la delega che ho all'UNESCO, sto facendo il giro di tutto in realtà, perché poi alla fine abbiamo un patrimonio inesimato, basta solo vedere qua quello che ci circonda e basta solo unire tutte le corte, tutti questi centri, questi comuni e in modo che il riconoscimento un'unica, soprattutto in realtà, si può fare in un progetto economico per il turismo e comunque per far conoscere tutti i nostri luoghi, perché il territorio è il più percorso dell'unica comunale. Lì diamo, libiamo, libiamo, negli eti tonici, quella bellezza in viola, e l'apa fuggiamo e fuggiamo allora, sinne prima volontà. Lì diamo, dolci fratelli, che suscita l'amore, quel corpo, l'occhio, il cuore, ogni potente è buona, pul下來, e il cuore, ogni potente, un fluore, ogni potente, un quantità di tutti i nostri史, cioè delle varie, capacità, un po' di donne etica, car ñak. C links atrevo alla prossima, allora, inizio insieme avvenen pricksè essere stati un valore,